A Sansepolcro in questi giorni è partita la campagna di tesseramento di Forza Italia che è il sepocondo partito politico della città. Di questo parliamo con il neo coordinatore di Forza Italia che è Roberto Neri. Allora come stanno andando le cose? Innanzitutto buonasera. Il coordinamento sta prendendo forma sempre più perché vedo che ci sono anche sempre più persone che si affacciano verso la nostra nuova sede e automaticamente stanno sempre chiedendo più informazioni per quanto riguarda quello che è il futuro del nostro metodo di lavoro, le nostre idee che vogliamo portare avanti. Vedo che c'è un buon interesse su questa direzione del tesseramento. Pensavo in base al momento che stiamo passando e stiamo vivendo che non sarebbe stato così tanto recepito da queste persone. Invece vedo che l'interesse c'è. Quindi diciamo che la politica è sempre messa un po' sotto tocchio però l'interesse poi alla fine per i partiti politici c'è sempre. Sì sì ma ora noi parliamo di una realtà che è sansepolcro quindi anche un paese abbastanza piccolino rispetto a quello che potrebbe essere un nazionale. Quindi quello che vedo lo vedo sempre sulla nostra realtà e l'interesse vedo che è sempre in base alla nostra realtà. È circa un anno, quasi un anno che Forza Italia ha riorganizzato i club, il partito, il coordinamento e le attività in questo anno? Sono tante. Dall'apertura della sede dove è aperta tre giorni alla settimana, tra l'altro è l'unica sede a Sansepolcro che rimane aperta tre giorni alla settimana, con degli orari abbastanza elastici dove si parla di lunedì dalle 17 alle 19, mercoledì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12. Poi un'altra cosa ancora, sono stati fatti degli incontri con delle persone specialmente, in particolare sui rifiuti, dove si è parlato del discorso rifiuti per la comunità europea, con l'intervento della Lucia Tanti e il coordinamento d'Arezzo che sono stati presenti. Poi abbiamo fatto una raccolta firme dove abbiamo fatto quasi 18 presenze, dalle 18 alle 20 presenze in piazza con il gazebo per farsi raccogliere le firme per il referendum, dove siamo stati gli unici ad arrivare a circa 600 firme raccolte che se tutti avessero fatto il lavoro che abbiamo fatto noi, penso che avremmo superato alla grande il referendum. Un'altra cosa è stata quella fatta, è stata fatta la campagna elettorale per il nostro candidato, che era il nostro candidato, era Paolo Bartolozzi per le europee, dove è stato fatto anche un incontro nella nostra sala consigliare, dove c'era una 40-45 milioni di persone che hanno fatto delle loro domande, sono intervenuti in vari argomenti, si è visto che si è fatto un lavoro molto interessante anche lì perché abbiamo raggiunto anche un buon numero di consensi verso il nostro candidato. Quindi varie iniziative, tematiche, locali e nazionali e su questa scia andrete avanti anche verso l'autunno? Sì, andremo avanti in autunno e spero anche in primavera prossima, spero anche nel prossimo anno, spero andare avanti molto costantemente. Anche perché poi si avvicina anche un appuntamento abbastanza importante per i biturgenzi e Sansepolcro dal prossimo anno, che sono le comunali del 2016. Sì, lì ci stiamo pensando, non così tanto, come si può dire, così tanto ravvicinato, però come tutto è sempre anche quello, anche se uno dice che non è tanto vicino, è vicino anche qui, ci stiamo pensando, sì.